L'iniziativa era stata voluta dall'amministrazione da Pollonio e l'iter era stato seguito dall'allora assessore all'urbanistica, nonché vice sindaco Cesare Pietrangelo. Ora finalmente il progetto vede la partenza con la pubblicazione dell'avviso pubblico per 66 borse lavoro varato dall'autorità urbana di Isernia tramite l'ambito territoriale sociale. 54 borse sono assegnate al comune di Isernia, 6 a Miranda e 6 a Pesche. Obiettivo supportare le persone ed in particolare i nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà economica causata dalla perdita del lavoro. Il bando consultabile sul sito internet dell'ATS Isernia fa parte però di un programma più complesso, sottolinea Cesare Pietrangelo, che prevede un finanziamento complessivo di circa 3 milioni e 400 mila euro per realizzare un totale di 15 progetti. Ovvero un progetto per il trasporto pubblico locale, 5 dedicati all'energia e alle fonti rinnovabili, due relativi alla valorizzazione delle risorse ambientali e archeologiche, uno legato alla promozione turistica, uno riservato alle imprese turistiche ricettive e 5 interventi per aiuti alle persone tramite borse lavoro e tirocini formativi, quest'ultimo per un importo complessivo di circa un milione di euro. Interventi ricadenti tra diversi settori, tra cui quello urbanistico, di cui la delega del precedente primo cittadino da Pollonio proprio all'ex vicesindaco, che coglie l'occasione per ringraziare dipendenti e funzionari per il prezioso lavoro svolto, che oggi, sottolinea, vede la luce. Un piano d'azione importante che va ad intervenire non solo nella lotta sul fronte dell'inclusione sociale e del contrasto alla povertà, ma che contribuirà a migliorare i servizi presenti sul territorio cittadino. Quanto all'avviso pubblico, i borsisti saranno inseriti nelle strutture comunali e saranno formati e supervisionati da tutori interni. La loro attività prevede un impegno in termini di orario settimanale di 36 ore, per una durata di sei mesi. Per quel che riguarda l'aspetto economico, riceveranno un'indennità di partecipazione di 600 euro lorde mensili, versate in rate mensili posticipate. Per partecipare al bando c'è tempo fino al 31 febbraio.